Il sindaco facente funzioni della città metropolitana Carmelo Versace, insieme al management della società partecipata Castore, ha incontrato i lavoratori e i sindacati per illustrare e discutere i nuovi progetti di crescita e sviluppo dell'azienda dopo l'acquisizione del 49% delle quote societarie da parte dell'ente di Palazzo Alvaro. Al termine del confronto il sindaco facente funzioni ha parlato di una riunione proficua, raccogliendo i favori delle organizzazioni dei lavoratori e delle maestranze. È stato un momento importante perché di condivisione dove si sono un po' gettate le basi anche rispetto ad alcune riunioni che sono intercorse col management in città metropolitana su quello che saranno i servizi che verranno affidati alla Castore da qui ai prossimi mesi, ovviamente il tutto concertato con il management e ascoltando un po' quelle che sono state le proposte anche dalla parte dei sindacati che ringrazio per il supporto che ci hanno dato in tutto questo tempo. Ovviamente si è partiti formalmente già qualche settimana fa con degli incontri ufficiali con i dirigenti della città metropolitana, adesso bisognerà dare concretezza a questo progetto che comincia a prendere sempre più forma. Grazie a tutti.